Molta gente crede che l'evoluzione sia una verità dimostrata. La propaganda darwiniana viene condotta in tutte le scuole con insistenza. Nei testi scolastici, tante prove falsificate ed escluse anche dagli evoluzionisti, si presentano come la dimostrazione dell'evoluzione degli antenati dell'uomo. Invece la realtà che gli evoluzionisti tentano di nascondere è evidente. Le testimonianze fossili rivelano che gli esseri viventi non si sono evoluti da forme primitive verso forme avanzate, ma sono apparsi tutti all'improvviso integralmente, cioè gli esseri sono creati. Tutti gli esseri viventi sono giunti all'esistenza con le loro caratteristiche perfette, grazie al progetto di un creatore, eminente per superiore potenza, sapienza e conoscenza.